E' iniziato ufficialmente questa mattina di buon'ora con le consuete visite mediche la stagione calcistica 2010-2011 per il crotone di Leonardo Minichini che si appresta a disputare il settimo campionato di Serie B della sua storia. I test medici che verranno consumati in tre giorni hanno visto una prima parte di atleti rosso-blu, vecchi e nuovi capitani galardo in testa, insieme ai tecnici impegnati nelle prove di sforzo, spirometria, prelievi ed ecocardio sotto l'attento sguardo dello staff medico dell'FC Crotone. Mercoledì pomeriggio, infine, esaurite le visite mediche, la truppa rosso-blu si trasferirà a Villaggio Baffa, Trepidò, nella Sila Crotonese, dove giovedì 15 luglio inizieranno le fatiche estive in vista dei primi impegni ufficiali di Team Cup e del campionato di Serie B Win. Grazie per la visione!